finora nelle distrofie miotoniche quello che si poteva fare era la presa in carico siccome sono patologie multi organo si è potuto prendere in carico diversi sintomi legati a diversi organi sicuramente dare una migliore percezione della qualità di vita ridurre le conseguenze di alcune complicanze che possono insorgere per esempio le aritmine le difficoltà respiratorie il diabete la cataratta tutte situazioni che possono essere presi in carico con una buona pratica clinica in centri esperti ma oggi per fortuna siamo di fronte ad un'onda terapeutica un'onda terapeutica perché rispetto a prima che si poteva agire solo sui sintomi o in questo modo come detto di presa in carico oggi ci sono diverse possibilità terapeutiche che agiscono sulla base della patologia cioè sulla sui meccanismi che determinano tutti questi sintomi di interessamento di diversi organi ci sono studi di fase 1 vuol dire la prima volta che si provano nelle persone condotti nel centro clinico nemo di milano e di roma come come riferimento italiano unico e poi studi di fase 2 3 in arrivo e anche altri studi di fase 1 di diverse case farmaceutiche tutte mirate a meccanismi comuni per andare a rendere più possibile la produzione di proteine funzionanti e quindi ridurre diversi sintomi nei diversi organi che sono così disabilitanti per le nostre persone quindi è un momento bellissimo momento con molte aspettative perché i primi dati mostrano molta sicurezza però sono fasi preliminari bisogna essere cauti bisogna interpretarli con un giusto peso con il giusto entusiasmo ma una giusta serietà e competenza perché parliamo di fasi 1 fasi in arrivo numeri ancora piccoli con dosi ancora crescenti però rispetto a prima abbiamo molto a molta positività molto entusiasmo e questo deve essere raccolto anche dai pazienti dalla comunità perché è molto impegnativo sia per i centri ma anche per i pazienti ma con molte possibilità di essere proattivi e cercare di cambiare il decorso di malattie così importanti che interessano dai neonati alle persone adulte e quindi per ora questi studi interessano gli adulti ma si stanno già prospettando aperture sulle fasce di età più giovanili e più insomma anche con problematiche più complesse perché a volte parliamo di interessamento anche nel sistema nervoso centrale nonostante parliamo di distrofie quindi insomma è un mondo molto in evoluzione per questo che ci teniamo a parlare di onda terapeutica perché è un momento bellissimo Grazie a tutti